Complimenti. Dopo due anni, una altra grande vittoria. Com'è la gara con i tuoi compagni effettivi? Come hai fatto? Oggi è andato in fuga. Pensavo di aiutare il capitano all'ultima parte. O se arriva, pensavo di vincere. Alla fine è andata bene per me, perché abbiamo avuto non un gran vantaggio, però ero sempre lì, avevo ancora un po' di energia. L'ultima salita ho fatto il mio passo, il mio ritmo era dura, ma sono riuscito ad arrivare con un po' di vantaggio da solo. Adesso questo Mario Azzurro? Sì, vediamo, però si va tranquillo. Vediamo, poi quando arrivano montagne, dove si può prendere più punti per Maglia Azzurra. Allora. Allora.